Quello che vedete adesso è la lettura dell'anima ed è una lettura veramente particolare che faccio il suono per voi e comincio a scendere affinché io posso ascoltare esattamente la vibrazione che seguo l'anima. Questa è la parte dell'oggi, ora scenderò dietro e andrò a rilevare il suo passato. A questo punto sono in grado di cantare e suonare la sua anima. Allora seguo tu adesso, cubri gli occhi e prendi il sole quando ti metto le mani sulla spalla. A questo punto sono in grado di cantare e suonare la sua anima. A questo punto sono in grado di cantare e suonare la sua anima. A questo punto sono in grado di cantare e suonare la sua anima. A questo punto sono in grado di cantare e suonare la sua anima. A questo punto sono in grado di cantare e suonare la sua anima. cari amici vi voglio consigliare la web tv studio perché è una tv veramente importante nell'arco della produzione italiana e io vorrei che voi la seguiste perché sono speciali, davvero speciali. un grazie a loro e un grazie a tutti voi. Ciao!